Una visita ostetrica è una visita che prende in carico il benessere sia della mamma che del bambino quindi i pazienti sono due la mamma che ci può raccontare la sua storia clinica e che dobbiamo monitorare nell'evoluzione dei vari mesi e il bimbo che presenta alcune possibili diagnosi in alcuni momenti della gravidanza. Le visite ostetriche non vengono fatte casualmente ma hanno una cadenza chiara in cui si risponde ad alcune domande. Ci sono delle domande che riguardano la salute del feto, le malattie cromosomiche, le malformazioni fetali e alcuni momenti in cui capiamo se questa mamma è una mamma che ha una gravidanza fisiologica e quindi può affrontare il parto in modo fisiologico o se dobbiamo prestare più attenzione perché potrebbe sviluppare qualche patologia. Le nostre visite in Humanitas si avvalgono di macchinari di altissimo livello in cui riusciamo a valutare anche in particolare i più specifici sia del feto che della mamma e in particolare abbiamo un network di relazioni con colleghi che lavorano anche dentro gli ospedali in cui si può collaborare e creare una storia, un'accoglienza non soltanto della patologia ma della persona e della diade e della mamma del feto.